E' anno santo a Valgoglio e Novazza, la speciale concessione del Papa in onore ai 550 anni di fondazione delle due parrocchie. Numerose le cerimonie in programma per tutto il 2011, tra le quali il Giubileo della Gioventù, celebrato questa domenica a Novazza. Nel contesto del 550esimo di erezione canonica della nostra parrocchia, abbiamo pensato che fosse una cosa bella, importante, che il Vescovo parlasse ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani. La giornata è stata dunque condivisa con il Vescovo Monsignor Francesco Beschi, che ha inaugurato il centro di aggregazione dedicato a San Giovanni Bosco e il nuovo sagrato della parrocchiale. Ci troviamo in questa comunità che è certamente numericamente piccola, ma il cui entusiasmo, la cui passione per la vita comunitaria si manifesta in mille modi. Anche questo Giubileo, che si accompagna all'inaugurazione e alla benedizione quindi di alcune strutture, dice la passione di queste persone per la vita della loro comunità. Quindi non solo per le loro singole famiglie, ma anche per le famiglie insieme, per la loro parrocchia, per quei momenti che sono aggregativi e nello stesso tempo diventano momenti educativi. Quindi benediciamo volentieri queste strutture e celebriamo la festa di San Giovanni Bosco sotto il segno poi di quell'impegno educativo che in questo momento avvertiamo tutti come profondamente importante. Una giornata dedicata ai giovani e ai più piccoli che con il loro entusiasmo hanno colorato di gioia questa solenne celebrazione. Noi confidiamo tanto in ciò che i giovani rappresentano. I giovani rappresentano sempre una forza e incarnano una speranza. È importante che gli adulti possano in qualche modo orientare questa forza e motivare le speranze di cui i giovani sono apportatori.